e benvenuti a una nuova puntata di fratelli di rugby podcast welcome everyone today is a special podcast in italiano quindi parliamo in italiano oggi sono da solo ma per pochi secondi ancora perché oggi come avete visto dalla copertina per chi vedrà il video su youtube oggi sono in compagnia di lorenzo pani o ecco di qua che ti aggiungo avete visto ed eccolo qua lorenzo come stai molto bene molto bene abbiamo fatto il generamento bene ora sono a casa quindi dopo dopo i bagordi giustamente un po di di festa si è ricominciato il lavoro la professionalità una settimana libera ci hanno lasciato ora giustamente iniziamo si ritorna a pieno regime bene eh lorenzo prima dicevamo fuori prima di iniziare proprio che ci eravamo sentiti contro diciamo dopo la partita con l'uruguay quindi dopo una una meta per festeggiare una meta ci troviamo qua a distanza di poco a rifesteggiare un'altra meta quindi il che mi fa piacere non solo quindi è stato è un anno è una stagione assurda io ho titolato questo podcast ma il cielo è sempre più blu perché sembra prendere tante sfumature d'azzurro e di blu anche con le zebbre quindi come sta andando quest'anno no quest'anno diciamo io sono stupito perché onestamente veramente un anno e mezzo due anni fa non l'avrei mai pensato insomma è stato un po' tutta una sorpresa nel mondiale anche le zebbre onestamente perché insomma lo scorso diciamo non è andata bene pur che altro oltre alle sconfitte vabbè magari il nuovo ciclo ci poteva stare magari tutte sconfitte no però proprio il risultato che era sempre di un grande distacco invece quest'anno comunque abbiamo vinto già qualche partita in più e poi abbiamo fatto vedere anche che insomma con le parti ora con alcune no però con con molte squadre comunque siamo sempre lì col punteggio quindi anche con le zebbre è stato un anno veramente importante che poi dopo comunque lo si rivede anche in nazionale avere due franchice che comunque hanno un buon livello di sicuro aiuta la nazionale. Quindi tu hai iniziato questa stagione quando parlavamo con l'Uruguay al mondiale tu hai sordito prima al mondiale che ha sei nazioni otto presenze nazionale tre tre mete e siamo arrivati già ecco a un percorso no pensando tu hai detto due anni fa non ci avrei mai pensato adesso hai visto due cose hai visto il mondiale hai visto il il se nazioni qual è la differenza maggiore che senti tu che hai percepito nella preparazione nella nella storia perché il se nazioni è un torneo molto più antico giocare in quegli stadi è diverso che magari giocare lo so nei in francia ma durante una coppa del mondo c'è tipo una presenza una tradizione la senti di più in certo modo o no? Sì forse nelle nazioni questa cosa di di roba cioè di di un torneo storico lo si sente di più non non ti saprei dire onestamente il perché però è una cosa che sento dentro che comunque si vede che è un qualcosa di più sentito magari però ti dico l'atmosfera comunque anche al mondiale insomma insomma un sacco di persone a vedere onestamente è molto bello avere tante persone che vengono comunque anche insomma la vittoria all'Olimpico io purtroppo non ho giocato però cioè vedere 70 mila persone festeggiare per una vittoria dell'Italia è veramente bello e poi ora l'ultima partita anche lì a Cardiff è stato incredibile stadio chiuso io mi ricordo avevo 14 15 anni andare a vedere la mia prima partita la la mia partita diciamo non dell'Italia ovviamente dell'Italia all'estero Galles Italia e quindi ritornarci lì e sapere che giocavo te lo giuro al team runner mi fermavano le mani lo ammetto cercavo di non farlo vedere ma era proprio incredibile poi insomma giorno dopo per fortuna ero molto più col sangue freddo me l'avevo detto insomma resta più tranquillo e è andata insomma bene vivere la mentale la sentivi quindi la pressione proprio della storia no che non lo so i ricicli storici quello stadio tu da bambino è un stadio storico in più io avevo questa cosa di un ricordo che quando avevo 14 anni 15 anni andare a vedere Galles Italia a sei nazioni e quindi è stato veramente un mix di emozioni incredibile bellissimo e poi vincere ancora di più chi ti è stato vicino che magari ti ha aiutato parecchio in quella settimana di preparazione d'avvicinamento tra gruppo staff e diciamo giocatori no ti dico del gruppo staff sono stati veramente tutti dal primo all'ultimo ma anche la squadra perché onestamente quando si è fatto male Ang dopo insomma dopo la partita il lunedì hanno fatto un po' di prove insomma mi hanno dato fiducia perché comunque mi ricordo l'allenamento del martedì avevo sbagliato due o tre cose che insomma magari ho provato qualche cosa sul piede destro magari uno dice il gioco una partita titolare da estremo cercare di fare meno cose fatte bene però su quello mi hanno sostenuto e che mi ricordo anche German a riscaldamento della partita mi ha detto che è una cosa che apprezzava e io ho provato col piede debole a fare qualcosa quindi mi ha dato proprio la serenità e sono stato bucciato e compagni di squadra tutti siamo un gruppo giovane insomma con tanti tipo Marin Menoncello Garbisi da quando facciamo l'anno del 18 che ci conosciamo quindi sicuramente anche questo è un grande aiuto che ovviamente siamo oltre che compagni di squadra fuori dal campo amici quindi questo mi dà una sicurezza dentro molto importante e ci stanno pure facce nuove perché abbiamo visto pure vincent avvicinarsi adesso ecco parte del del gruppo c'è luis line ovviamente andiamo nella partita perché c'è raccontami come ti sei sentito quando hai messo la mano su thomkins e sei sei arrivato in meta dopo quel tre tre contro di te tutti tutti a largo tutti vai con liscio no tu hai pensato me ne vado per l'interno adesso entro oppure hai detto questa è l'opzione che devo prendere adesso cioè mentre correvi con la palla pensavi anche al sostegno in quel momento perché poi lui sta venuto in asse diciamo dietro esatto esatto no allora ti dico appena ho preso palla io la prima cosa ho detto coro il più veloce possibile poi in quella frazione di secondo l'unica cosa che mi ricordo proprio che come prima idea ho detto vado esterno però ho visto che Josh Josh Adam se è dato sta arrivando veramente tanto veloce tagliando detto all'ultimo cioè non ci ho mai pensato ho tagliato per fortuna interno e lui era stava andando troppo veloce per fermarsi e lì poi dopo insomma gli ultimi mesi mi sembrava di non arrivare mai a meta te lo giuro proprio e poi si gode perché poi cioè quello che adesso hai detto tu adesso ripensando proprio anche ai vari replay si vede tu che vai verso l'esterno doppio e poi vai verso dentro bellissimo incredibile bellissimo guarda tu però almeno questa la dovevi fare tu perché mi ricordo pure che l'opzione era di andare o di darla con l'uruguay avevi detto ed è rientrato e c'era stato il rischio qua il rischio ha pagato una o una tre volte senti ho preparato come al solito un po' di giochini giochetti vari e quindi io ti direi partirei da una cosa che ho messo insieme un po' dei due compagni di squadra nazionale e ovviamente e con le zebbre anche quindi è club e franchigia quindi così mi dai un aggettivo su questi compagni che comunque sia li stai avendo durante tutta la questo anno e mezzo favoloso quindi partiamo da monti mi dai un aggettivo per montana joane allora monti gli estremi ti ho messo così ti aiuto monti ti dico esplosività perché vabbè non lo devo spiegare io ma lo dico lo stesso ovviamente è un giocatore incredibile intanto perché insomma palla in mano il primo difensore lo batte veramente quasi sempre e quindi la prima parola mi viene in mente esplosività benissimo vado con il ragazzo era fatto una gran l'altro giorno una gran meta quindi con jacopo trulla io lo chiamo gangs of trulla perché si attacca con tutti ma c'è sempre qualità quando attacca e gangs of trulla che mi dici di lui trulla si dico step perché io veramente non ho mai visto uno step del genere è incredibile nell'uno contro uno quando magari anche in allenamento si proviamo è imprendibile a uno step incredibile c'è stato un paio di foto sue proprio con il saltello di trulla cioè lui salta tantissimo col saltello e poi ovviamente ti metto anche abbiamo qua paolo odogo che tu hai conosciuto in nazionale un altro esplosivo a me mi viene da pensare però tu come me lo descrivi sono due parole forza fisica perché fisicamente è incredibile è veramente forte veloce grosso e quindi se ne dico due forza fisica quindi continuiamo con un altro paio d'ali ovviamente uno dei miglior finisher del campione italiano metaman questa ogni palla che tocca è messa quindi a volte anche noi cioè magari uno gli passa la palla dice fatto assist però cioè prende palla e fa veramente tutto lui da solo quindi metaman poi andiamo con l'ultimo arrivato diciamo della famiglia azzurra tu eri già dentro il gruppo comunque sia che è lui Slainag che è percepita da lui? ora come ora ti dico decisivo ha fatto due partite e due vittorie quindi è come Marin no? Talis Marin ci sto quindi diciamo lui veramente così poi ci mettiamo Geronimo Prisciantelli Geronimo Geronimo è talento perché è un giocatore io mi ci trovo molto bene a giocare insieme perché anche a me piace molto magari provare qualche cosa un pochino di più estroso e lui è su questo è veramente molto molto forte quindi ti dico talento è insomma anche l'ultima partita ha fatto tre quattro passaggi perfetti insomma è un giocatore molto talentuoso quindi talento e tra questi diciamo il 10-15 rispetto magari altri che sono più alipure o estremi e quindi aggiungo poi Ange eh Ange ti direi rapidità perché è un giocatore veramente rapido e insomma come monti esplosivi rapidi insomma molto molto forti fisicamente. Bella cosa tra l'altro due fisici diversi però sentirti dire questo dimostra le qualità di certi giocatori quindi bello questo lo levo per adesso e torniamo un po' al periodo perché il Seinazione è stato ovviamente il migliore per tantissimi motivi eh lo stile italiano di gioco mi viene da dire cioè c'è un'evoluzione continua ma l'identità sembra qualcosa che già sta avendo un precedente che sembra che si stia trasportando e migliorando tutto quello che si cominciava a vedere prima adesso una difesa molto più efficace secondo me porta proprio a un bel quadro di questa Italia che piace ovunque diciamo quindi secondo te questo come come visto che tu c'eri prima quindi hai visto con Crowley hai visto Chezada adesso come si sta lavorando in questa maniera si sta solamente facendo sbocciare quello che già c'era secondo te? No allora sicuramente Chezada ha uno stile di gioco e un'idea di gioco differente da Kiran. Kiran ha un po' uno stile di gioco più basato ovviamente come si era visto molto sull'attacco e usare un po' meno il piede e invece su questo Chezada è molto più diciamo ha uno stile diciamo molto più equilibrato il piede si usa molto di più comunque ora in difesa vabbè quello lì insomma si è visto che comunque anche paradossalmente anche contro l'Irlanda una partita abbiamo perso 36 a 0 però si è visto proprio la voglia di aggredire in partita poi ovviamente se non hai pallone in attacco è difficile giocare però eh quindi anche quello però ti dico la differenza principale sono messo un gioco al piede che ovviamente insomma è un'arma veramente importante insomma anche contro il Galles abbiamo usato molto bene per spostare la pressione a loro e quindi come differenza principale questa è anche quella lì che magari dentro nella nostra metà campo rischiare un po' meno e magari esatto esatto quindi come cosa ti dico principalmente questa poi ovviamente ehm con l'arrivo di Philippe Lussi eh ci sono molte riunioni più specifiche sul gioco al piede sui calci d'inizio sui calci di rinvio dalla nostra linea di meta da ventidue quindi eh anche i dettagli comunque sono molto migliorati da avendo avendo uno specialista nel ruolo così ti aiuta esatto uno specialista così poi comunque anche sulle skills tecniche ti aiuta molto eh Philippe Lussi sui passaggi sui calci preso al ruolo immagino eh allenamenti magari un pochino particolari un po' sul dettaglio è molto importante poi dopo un partita ti aiuta veramente tanto quindi c'è stato sia un lavoro diciamo su scenari partita scenari di azione che proprio sulla tecnica individuale pura sulla ripetizione immagino io c'è stato un po' di tutto sì esatto e poi ti dico anche dal punto di vista mentale io ora io sono stato poco comunque eh sono arrivato a luglio in nazionale quindi non posso dire tanto di com'era prima però ora veramente siamo molto ambiziosi cioè ci siamo detti mi ricordo dopo l'Irlanda che volevamo essere la l'Italia a fare insomma il miglior risultato di sempre quindi cioè ce lo siamo proprio detti e poi dopo ovviamente adesso ho lavorato in campo però dopo l'Irlanda magari poteva essere facile dopo un 36 a 0 insomma crollare mentalmente tutto invece abbiamo fatto una bella prestazione contro la Francia una vittoria contro Scozza e Galles quindi anche da questo punto di vista io penso che c'è stato un grande passo in avanti ora ovviamente è difficile ma anche il bello è quello di riconfermarci nelle prossime partite ci saranno hai visto che hai visto ovviamente lo sai eh quest'estate si andrà a giocare nel Pacifico come la vedi come sfida giocare in in posti esotici lontani dall'immaginario di solito no? No sicuramente ci arriviamo io penso con un bel po' di fiducia in più che abbiamo fatto vedere che comunque a queste nazioni siamo una squadra che ci può stare dentro tranquillamente però ovviamente abbiamo anche quella pressione che saremo noi la squadra da battere penso insomma Giammota Samoa Tonga e Giappone comunque sono entrambe sono tutte e tre scusami squadre molto forti e tutte e tre con stili di giochi differenti e insomma sarà una finestra importante per far vedere e riconfermarsi dopo quello delle situazioni però saranno veramente insomma divertenti come partite belle belle aperte immagino anche io quindi tu hai parlato ecco siamo potremmo essere noi la squadra da da battere vista la situazione del ranking e tutto in questa periodo visto che parlavo un po' di questo questo cambio che sta arrivando in nazionale si era parlato tanto di rispetto e credibilità prima con Krali adesso sembra proprio la parola chiave sembra consistenza perché sembra proprio che state alzando il livello generale della performance e questo si è visto ovviamente nelle anche nelle prime partite la cosa che a me colpisce dal punto di vista difensivo è che dopo che subite in campo un line break qualsiasi cosa non l'atteggiamento mentale non cambia non si sembra non andare non andare mentalmente in difficoltà mi è stato molto più sul pezzo proprio anche a livello di fiato quando si stava in difesa questo ti dico che appunto abbiamo fatto anche un'analisi video a riguardo questo che quando prendiamo un line break ovviamente tutti dobbiamo correre al massimo dietro dal numero uno al numero quindici e insomma si era fatto un'analisi video contro mi sembra la Francia e si prende un line break tutti rientriamo e non prendiamo meta perché tutti abbiamo fatto lo sforzo di entrare quindi questo ovviamente è sia fisico ma anche mentale perché anche in partita è normale però mentalmente ti devi metterti questa cosa che prendi line break come entri e corri al punto quindi dal punto di vista mentale abbiamo fatto tanti passi in avanti ovviamente e dall'altra parte adesso me ne vado sul lato zebra là c'è la voglia di di andare cioè nonostante uno può prendere anche la meta però continuare a battere forte che penso pure l'ultima partita adesso con l'Einster che comunque si attaccava a velocità l'errore poteva arrivare però ecco la voglia la compattezza c'era e come si è lavorato là a livello mentale per il cambio in difesa perché anche quello è stato un cambio fondamentale no lì ho fatto comunque beh ovviamente c'è sempre dall'anno rispetto a Fabio Rosselli e però ci sono stati onesti onestamente tanti e sono Richard Hodge della difesa e poi Josh allenatore delle tuche no io onestamente con Josh ovviamente non c'è molto diciamo a che fare perché ovviamente però io vedo comunque c'è stato un grande cambio rispetto all'anno scorso da quel punto di vista di drive su tuche è veramente un sacco in difficoltà cioè a volte si prendeva a mare i tre mesi su drive quindi quest'anno questo punto di vista ho visto tanti passi in avanti Richard dal punto di vista dell'attività onestamente ha fatto cambiare la squadra poi cioè come si è visto usiamo il piede scorso mai quest'anno tanto e onestamente abbiamo visto un'arma che ci aiuta molto e su quello lui è veramente incredibile ha fatto veramente quasi cambiare la squadra insomma lo scorso abbiamo perso tutte le partite quest'anno come ho detto abbiamo vinto però ovviamente un cambio però il bonus si prendono che è comunque sia importante per non stare proprio in fondo no ha fatto veramente cambiare lo stile di gioco comunque dove bisognava molto più il piede soprattutto dentro i nostri 40 metri e ha fatto un grande lavoro e abbiamo visto pure le cose che magari l'anno scorso non sembrava abbiamo visto calciare anche Simone Gesi che di solito non ce l'aspettavamo anche quello è una una cosa diversa io vorrei andare con te adesso cioè le mie piramidi ho fatto una bella piramide e la piramide in questione però oggi è ovviamente sugli estremi e quindi io ti vorrei ho preso cinque estremi veramente le scelte erano difficili ne ho presi cinque quindi ci sarà un momento in cui ce ne sarà uno che lo potrai scegliere tu perché qua ci sono sei caselle e adesso te la condivido perché l'ho messa ancora in piccolo eccolo qua io ti darò e tu vediamo come come ne esci fuori con questa questa piramide degli estremi quindi dimmi un numero da uno a cinque così usciamo quattro quattro eccolo qua e allora giordi barrett estremo adesso anche primo centro però una carriera più da estremo rispetto a budon dove lo mettiamo qua primo seconda terza fascia ma ci sono giocatori di ora o anche storici magari ci sono tutti i giocatori che ancora giocano quest'anno ancora giocano ok allora te lo metto in seconda fascia seconda fascia ok seconda fascia poi ti metto eccolo qua questo uno se sei ritirato da poco non so che tipo è però molto curioso di sapere la tua su questa giocatore quindi io ti metto un altro è mike brown perché non so se magari sei un fan sei uno che apprezza questo tipo di estremi rispetto ad altri quindi ho cercato di variare un po sì se no ti dico come come magari tipo di giocatore magari non è proprio cioè non te lo metto fra i miei preferiti però ovviamente c'è riconosco che è un grandissimo giocatore e tutto però te lo metto in terza fascia terza fascia ok quindi lo mettiamo qua vado con questo potrebbe causare un po di scandalo easy fall out eh sì eh lui quando ho iniziato a giocare estremo era era il mio idolo e secondo me per quei tre anni per tre anni veramente c'era nessuno che sta vicino a lui era in forma veramente troppo troppo forte giocatore mostruoso non di parte a vedi non immaginavo che ti piaceva però non così tanto quindi mi fa bello curioso ti metto un altro che è alf penny che ancora gioca però si è fatto male però ecco un altro tipo d'estremo un altro tipo d'altezza un altro tipo di gioco al piede alf penny lo metto cavolo è difficilissimo lo so lo so e no allora lo metto in testa fascia ma perché devo vedere se c'è quello che penso io devo vedere se c'è quello che penso io vediamo vediamo allora io ti metto questo che è willy leroux cavolo volevo mettere in colpa ha detto no mettiamo willy leroux eh un po' più driver di gioco un po' più playmaker no te lo te lo metto anche lui in terza ma perché vuoi vedere qual è l'ultimo penso è l'ultimo lo scegli tu quindi sei fortunato ah l'ultimo lo scelgo io allora perfetto allora io metto freddy stewart ok freddy stewart aspetta che me lo lo scrivo nel frattempo così ovviamente mettere davanti lui ora è giovane tutto quindi ancora però come ora mi fa impazzire quindi sono di parte so che gli altri tre che ho messo in fondo hanno fatto insomma una carriera incredibile ma a me freddy stewart ora fa impazzire cioè nelle prese aeree è un qualcosa di ingiocabile poi appunto quando ho giocato l'inghilterra c'era lui e una roba mamma mia vola mamma mia poi insomma c'è anche un bel piede è solito cioè è folle mi piace un sacco è poco appariscente ma è talmente bravo in quello che fa che spica bene e una sicurezza anche di me mi piace un sacco tanto tanto quindi io non ho messo per esempio uno come mckenzie che gioca molto da estremo o ben smith ho pensato anche quelli magari quindi tu mi hai detto folao era uno che ti piacevano quando hai iniziato quando io ho iniziato a giocare tardi estremo sedici anni quindi non troppo e il primo che mi faceva era appunto folao poi ovviamente ho avuto anche stuart hogg è stato uno che mi è piaciuto molto e tutto e anche ben smith diciamo questi tre sono stati principali però adesso di giocatori quello che mi piace più di tutti è freddy stewart comunque ti piacciono quelli proprio importanti sulle presa aeree perché alla fine metti folao stewart è sì sì no quando faceva quelle mamma mia dei salting che faccia proprio impazzire era bellissimo da vedere ti piace il rugby league così sì sì mi piace ok quindi quello pensavo proprio giocatori così che forti pure in rugby league quando giocavano bene bene questa altra cosa quindi una cosa sugli estremi visto stiamo parlando così ti ho messo qualcuno più playmaker ti ho messo dei destri dei mancini eravamo rimasti mi ricordo quella chiacchierata fatta dopo l'uruguay che parlavamo di la parte che vuoi sviluppare di più e tra quella c'era proprio il playmaking l'essere più al centro del gioco e come ti senti in questo lavoro di apprendimento continuo no ti dico su su quello che sto lavorando molto ma ricerco ora non l'ultimo periodo non c'era stato più però uno come tommy allen quando c'è l'estremo è veramente un secondo playmaker quindi cerco di assimilare il più possibile da giocatori così e nulla le zebre diciamo che sto mettendo molto in gioco da questo punto di vista nel propormi ovviamente il mio tipo di giocatore è un più uno che piace molto più attaccare quindi amare come premessa e nello cloud la ricerca all'ultimo del passaggio oltre di butti dato più con quello però voglio molto migliorarmi su quello sto facendo sia in campo e comunque anche fuori con le analisi di giocatori come insomma uno che in questo è molto bravo e quindi le rue e anche l'ultima partita ho visto proprio che ha giocato bene alla mano al piede insomma anche da giocatore si cerco di prendere più possibile a vedere partite insomma e poi riprovare in campo quindi a te capita in queste ultime due stagioni di aver giocato pure contro le sudafricane io ho un diciamo a me piacciono tanto le squadre sudafricane in generale perché sono molto distintive nella maniera in cui giocano però molto forti e giocano fino all'ultimo c'è un giocatore una squadra di quelle sudafricane incontrate che ti ha colpito ovviamente quando si va a giocare là che cambio di stagione è anche diverso però in generale anche quando sono venuti loro in in Europa c'è stata una squadra un giocatore delle squadre sudafricane che ti ha colpito no il giocatore delle squadre mi ha colpito più di tutti vabbè è normale dammi a un Wilhelms cioè ti dico lì io non l'ho giocata lì però ero lì a vederla perché stavo male avevo un po' di fubagia ma aveva fatto una partita che magari non aveva fatto insomma aveva fatto anche cosa anche di incredibile proprio più costante sbaglia poco e poi quando fa quella giocata lì che magari si lascia proprio la bocca aperta mi ricordo che ha fatto uno step aveva lasciato tre persone poi passaggio a me cioè piede destro piede sinistro playmaker duro fisicamente veramente sa far tutto e in quello è stato incredibile poi un altro che mi è piaciuto molto è sascia come zelo il 12 luce l'anno scorso luce l'anno scorso a parma è molto forte io ogni tanto faccio i video suoi pure le partite perché è uno di quelli che mi piace di giovani che escono da là è completo è tanta roba hai parlato di allen hai parlato di nazionale ti voglio chiedere un altro paio di cose prima con crolli non si vedevano i cambi di gioco gli switch con il 9 che si muove e la gira sul 10 che arriva sul lato chiuso quest'anno è venuta fuori e sta funzionando sta mettendo tanta pressione al piede pure dietro alle altre squadre è fatta anche contro il gales quando paolo mi ha fatto il calcio a me che purtroppo non l'ho preso e no è lo facciamo molto lo troviamo molto in allenamento è una delle idee di gioco di di gonzalo e insomma però sta funzionando molto bene e quindi penso continueremo a fare perché comunque siamo abbastanza imprevedibili non sai mai se continui in senso se cambi calci quindi questo l'imprevedibilità comunque è molto importante insomma lo stiamo facendo vedere si vede poi tra l'altro come voi avete diciamo in certo senso sembra molto una libertà sia alle ali ovviamente di seguire il gioco dentro al campo e creare la superiorità ma anche per esempio quando menoncello gioca da centro ci si basa diciamo sul playmaking 10 13 con naso e dalla poi veramente voi avete prendi l'angolo o fai la corsa dietro che tanto qualcosa si fa perché le mani ci stanno le gambe arrivano le opzioni ci sono quindi sembra molto più fluido anche con le opzioni all'interno cosa che l'anno scorso per esempio con crully non c'era sia queste switch abbiamo detto sia il gioco del piede più aggressivo più efficace quindi sembra proprio essere cucito su di voi sulla vostra voglia di correre come tu hai detto voglio se posso entro no no esatto è un studio adatto anche tipo di giocatori abbiamo perché comunque come hai detto due centri uno che aveva veramente incredibile che tommi e insomma naso che con le mani come sei visto fa delle delle sponde insomma incredibili no no è uno studio di gioco adatto insomma il tipo di giocatori che abbiamo e insomma ci sta molto bene piace soprattutto quando ti piace una cosa poi dopo la fai anche molto più volentieri e là entra pure tantissimo tra gli avanti visto che abbiamo parlato molto di tre quarti ma diamo un po' di retta pure ai miei amici avanti che fanno un po' di lavorino ci stanno le mani di di lamore e quindi anche in generale due chiacchiere rispetto a al lavoro dei capitani perché poi ovviamente tu hai l'amaro da una parte però poi ecco diciamo più capitani perché si è visto magari quando li cadera fuori è uscito fuori morisi quindi c'è diciamo una leadership che si è vista di più in nazionale ovviamente l'amaro è sempre in campo durante quelle partite è più corto il periodo però ecco come come stanno dando la mano questi capitani nella creazione dell'identità sia delle zebbre che della nazionale per il futuro esatto come nelle zebbre magari non c'è l'icata c'è moris abbiamo più capitani poi un altro ad esempio bici insomma giocatori di molta esperienza e abbiamo no abbiamo tanti giocatori sono dei leader importanti e comunque danno una grande mano perché comunque anche moris quando arrivato fin dalla prima partita ha fatto vedere veramente una sicurezza alla squadra in difesa è un grande comunicatore si dà molta sicurezza in campo ovviamente io con lui poi giocando anche tre quarti è una cosa molto importante ovviamente durante le giornate così il giocatore è molto molto bravo in cui invece quanto riguarda nazionale mi dice proprio insomma c'è il simbolo di capitano è un leader è uno che in campo lo vedi in allenamento può essere in palestra in parte c'è veramente si sacrifica sempre c'è anche solo è proprio uno di quei leader che ovviamente oltre che le parole proprio anche in campo lo vedi e c'è te lo dico questo è il leader e ti fa venire anche voglia di di veramente di giocare sempre di più di dare il massimo è molto bravo molto bravo ma si riesce a rilassare ogni tanto perché noi quando lo vediamo almeno da casa è sempre sotto pressione perché deve prima ragionare con l'arbitro poi con i ragazzi si deve deve animare tutti poi le interviste lo vediamo un poco rilassato sto ragazzo però si scioglie ogni tanto pure con voi capire si immagina però nel tempo libero è veramente un bravo ragazzo no è tranquillo per quelle cose ci pensa fischietti per quelle cose simpatiche numero numero uno come al solito due cose simpatiche che potremmo andare a vedere è visto che abbiamo parlato un po di giocatori che ti piacciono cose che ti piacciono di certi giocatori io ti ho fatto un un'altra cosa e l'ho chiamata lo schillato dove ci andiamo a costruire lo schillato e quindi guarda qua ti ho messo tutto e quasi tutto decisioni precisione e quasi aggiungiamo anche le prese aeree a sto punto perché me l'hai detto anche tu e quindi ci andiamo a creare un po un giocatore secondo te importante dal punto di vista di di tutte queste aree del del gioco e non solo ok perché non sono solamente cose tecniche ma anche cose di pazziato messo la locura il cuore quindi però io ti direi quindi partiamo da qua potenza ci metterei a te io ti metterei come potenza con l'uso del piede che è un altro giocatore che hai visto che a potenza che non t'aspettavi potenza che c'è giocato insieme che giochi giocato contro che hai visto giocare no che ci ho giocato a beh james lo cioè c'è una petarda devastante direi james lo tranquillamente james lo petarda e poi ci mettiamo noi simone jesi e simone jesi abbiamo visto un po di petarda però ovviamente mettiamo a te lore come petarda nostra perché sam larner su twitter ci ha fatto un un copolavoro di racconto sulla capacità che hai di portare più metri in avanzamento tra tra gli italiani quindi tante belle cose quindi te lo dico pure io lola e poi terzo ci metto un sudafricano ci metto franz stein uno che bombardava da casa anche lui andiamo con le prese aeree a qua mi sembra che la lotta è tra due giocatori folao e freddy stewart chi preferisci mettere qua tra presa aeree o ce n'hai un terzo no primo folao folao sono il primo e poi freddy stewart il secondo mezzo però folao e loro due li mettiamo così ok poi precisione chi è un giocatore che usa il piede in maniera certosina in è preciso proprio nell'esecuzione tecnica qual è un giocatore che ti ha sempre attuale come vuoi perché lo skillato è il tuo e decidi tu allora ti dico johnny wilkinson cioè lui o cartel però me quello che mi proprio mi faceva impazzire lui perché comunque anche col destro insomma al mondiale il drop in finale di destro è lui lui va benissimo tra l'altro wilkinson secondo me qua può entrare in un altro paio di situazioni per quello che ha fatto vedere in carriera tipo il placcaggio che era uno dei dieci che placcava meglio diciamo decisioni chi è un giocatore secondo te che non lo sai perché non sai come ma c'ha sempre le decisioni quelle giuste al momento giusto che ha preso delle decisioni in partita che poi sono quelle vincenti quelle chiavi in una partita chi è un giocatore che per il decision making quindi secondo te fa la differenza ti direi ti direi per quello lì ovviamente ora non gioca più però ti dico den cartel perché quando l'ho visto già qualsiasi cosa faceva era sempre la cosa giusta e ti metto lui buonissimo skills un giocatore tu hai detto prima a villams secondo me è uno extra skillato in in tutto c'ha tutto destro sinistro placcaggio mani passaggio lungo secondo me uno dei grandi ha vinto due coppie del mondo non a caso però skillato chi è un giocatore secondo te che ha tutto può essere anche un avanti quindi figurati no skills ti metto allora allora c'è un avanti a me ovviamente è stato il mio primo idolo da piccino che secondo me è stato no ma che è stato la a mio parere nel suo ruolo il più completo di tutti e cioè ti dico sergio parisse e mettiamolo anche al piede tra le altre cose lo sotto mani tutto tutto quindi tigre lui più completo quindi skills lui e poi molto elegante nel nel gesto tecnico non era uno sotto pressione cose strane usciva la cosa giusta no sempre con eleganza ecco esatto sì cuore chi è il giocatore che ti dimostra più cuore attaccamento al club alla squadra ai tifosi a chi è intorno al gioco del rugby non lo so cuore proprio quello che ti viene in mente se ti pensi un giocatore di cuore sì allora ovviamente non lo conosco come persone è difficile dirlo però vede rosia prima un patto si direi umane dell'irlanda pom l'amico di drulla perché mi ricordo quando si sono accettati anni fa gangs of new york in quel caso era con peter umano e quindi lui è uno che sembra uno che non si tira indietro diciamo placcaggio placcaggio vai su un avanti un tre quarti prima di tutto no ti vado su un avanti ti vado su un avanti uno che secca ma qui difficili sono tanti io ti aiuto con uno mich 103 placcaggi io sono indeciso tra mettere lui e fare diciamo mettere lui però anche insomma quando mi ricordo io david poco che era uno che mi quindi insomma loro due loro due poco che l'amaro dai esatto tutte e due pazzo pazia perché prima andiamo dal lato strano del mondo e poi torniamo sul 15 con la testa però l'ho schillato un giocatore secondo te proprio un pazzo in campo uno con decisioni folli risposte folli però tutto ovviamente nei limiti del delle regole è un un quid cooper uno un po' bello uno fuori dalle regole classiche diciamo insomma incredibile anche lui che faceva sempre delle grandi cose magari anche calcio passaggio dentro l'area di meta la cosa mi viene in mente insomma lui cooper e carlo spencer l'andrebbero a braccetto diciamo il giocatore che c'ha più testa più testa fredda in campo e non si sbilancia mai non non la sbaglia mai la cosa pensata quello che fa testa potrei dire che non altro qui che che o se ti vuoi ripetere anche Wilkinson Wilkinson perché lui un robot esatto era una macchina una macchina veramente di lui testa insomma un bel giocatore viene fuori dai oh mamma mia mamma mia che col cuore di pita romano e le prese di folau il piede di lo precisione testa di Wilkinson mamma mia placaggi a morire skill di parisse c'era grandissima bello bello mi piace come come è uscito questo qua qual è lo stadio che ti ha impressionato di più negli ultimi anni a giocarci allora ne ho due per due motivi differenti uno come ho detto prima va bene il 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 perché è incredibile e poi c'è anche qualcosa di cuore mio però l'altro ti dico per l'inno è stato Marfield perché quando cantano l'inno loro è qualcosa di veramente indescrivibile e non non c'è più la musica cantano solamente loro quindi questi due millennium e c'è uno stadio dove ti piacerebbe giocare penso magari a uno stadio neozelandese idempark kreis church ma uno stadio in sud africa pieno perché poi magari quella è pure un'atmosfera diversa non lo so le partite lì in sud africa magari si direi lì in sud africa ci direi una bella partita in sud africa italia con un bello stadio sold out bello stadio pieno ovviamente poi e ci mettiamo pure l'olimpico pieno quando si gode forte che vinciamo o quando c'è l'olimpico pieno è una cosa incredibile ti piacerebbe giocare a uno stadio non lo so pensando magari agli stadi di calcio in italia che molto spesso sono anche molto più vicini hanno un numero ampio pensando come era il flaminio una volta ti piacerebbe non lo so penso magari lo stadio del sassuolo lo stadio genova pure ha sembrato comunque sia uno stadio bello per esempio lì era molto bello no ti dico mi facerebbe giocare ma perché insomma è vicino a un caso mio all'artemio franchi quindi a firenze magari verrebbe tanti miei amici quindi mi piacerebbe molto giocare lì a firenze però poi stadio presente comunque sia a firenze anche ecco non c'è quindi sei più vicino no 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 intanto l'astralia insomma c'è una bella atmosfera poi comunque di solito ha portato sempre bene esatto a proposito di partite con la nazionale quanta voglia c'è nell'ambiente italiano della nazionale anche di prendersi la rivincita con la georgia per come è andata quel batumi prima perché ovviamente non c'eri ma quella cosa è stato un po' il boccone amaro negli ultimi due anni e mezzo a parte da come abbiamo concluso il mondiale però quella è stata la parte più amare no perché tutti l'aspettavano e per loro è andata bene però c'è tanta voglia di aspettare di giocarla di nuovo questa partita no sì sicuramente qualche volta il discorso è entrato ancora non troppo perché comunque ancora c'è una torne di mezzo però se non mi sbaglio ora le prossime amichevoli di autunno ci sono c'è Georgia e anche Argentina insomma beh c'è la Georgia quindi anche al post che hanno fatto quando il Galles ha vinto grazie ovviamente a voi che hanno detto allora che fate giocate no sicuramente c'è molta voglia appunto di giocarci ora che insomma poi è cambiato anche un po' tutto però c'è molta voglia anche di dimostrare che quello è stato solamente un passo falso e insomma mostrare il nostro valore anche contro di loro quindi la voglia è molta sicuramente ti chiudo diciamo un po' la chiacchierata con un altro paio di cosine simpatiche a due a due meglio una partita con i Barbarians o meglio una tournée con i British Irish Lions eh British Irish Lions British Irish Lions ok meglio una meta all'Uruguay o una meta al Galles? eh al Galles il Galles super rugby o top 14? io top 14 perché mi piace un sacco il campionato francese quindi sono di parte top 14 ok vabbè giusto scegli tu NFL o rugby a 7? ma ti dico io l'ho provato e nonostante prima di provarlo non ero molto convinto hai provato cosa? football americano? no no rugby a 7 no e ti dico è stato molto divertente quindi ti dico rugby a 7 rugby a 7 benissimo abbiamo fatto 45 minuti è volato tantissime cose allora non ti voglio tenere di più perché mi hai risposto veramente a tutto da cose tecnico tattiche a livello mental coaching come sta cambiando le aspettative quindi io ti auguro un grandissimo bocca al lupo per il proseguire della tua carriera e stagione ovviamente da parte nostra grazie per essere qua ringrazio pure Simone del Latte che ci ha dato la disponibilità per averti e ovviamente su fratelli di rugby noi avremo più là altre anche zebbre altri nazionali italiani altri coach quindi state sintonizzati e ascoltate il nostro podcast a volte in italiano per lo più è in inglese così ci ascoltano e capiscono cominciano a imparare come si dicono i nomi a te per fortuna lo dicono bene ma capuzzo menoncello scritto male cannone che non si sa capisco quindi michelle lamaro michelle lamaro uno dei fisceti quindi no speriamo che queste cose passano quindi Lore in bocca al lupo grazie di tutto grazie a te grazie mille stigla chiudiamo e ti saluto in privato grazie a te